Marsilio ha dato autorevolezza al governo della regione Abruzzo, un'autorevolezza che non si riconosceva nelle stagioni precedenti e questo ha creato un governo forte sul territorio a cui si è aggiunta la forza del governo centrale. Rappresenta comunque anche un puntello per il governo nazionale questa affermazione qui in Abruzzo? Sicuramente sì, perché questo più che altro è un riflesso condizionato per paradosso della sinistra e della sua campagna così aggressiva, tutti i leader dell'opposizione si sono trasferiti, non è che sono venuti qui, si sono letteralmente trasferiti in Abruzzo per circa dieci giorni e hanno politicizzato con questa aggressività, talvolta hanno rasentato e oltrepassato i termini della calunnia, della diffamazione, hanno cercato di incendiare le polveri, ma la risposta, se loro cercavano una risposta a livello nazionale, è stata negativa per loro e positiva nel giudizio complessivo dei cittadini abruzzesi per il governo nazionale, quindi hanno preso una legnata, per intenderci ovviamente metaforica, sia a livello territoriale, regionale, sia a livello nazionale.